Musica L'episodio è accaduto il 15 febbraio scorso a Crotone ma oggi in questura sono emerse i dettagli nella conferenza stampa. Dottor Zampaglione, una conferenza stampa questa mattina per l'arresto di tre persone. Vogliamo dire che cosa si tratta? Si tratta di arresti che derivano da un'attività di indagine iniziata la notte del 15 febbraio scorso a seguito della segnalazione di una rapina avvenuta in un negozio del centro cittadino. Dopo le verifiche fatte dall'ufficio volanti siamo stati subito sul posto con l'ufficio della squadra mobile e abbiamo cercato di capire cosa era successo. Abbiamo trovato una persona che era tra l'altro ferita a terra e stata immediatamente soccorsa, sentita insieme al titolare dell'esercito commerciale. Abbiamo capito che poco prima, mentre era stata consegnata una somma di denaro come un pagamento di canoni e locazioni a un signore di una certa età, i due erano stati sorpresi da alcuni individui che armati li avevano rapinati. Tra l'altro la persona che era andata a ritirare questa somma di denaro aveva subito anche una violenta aggressione da entrambi i rapinatori. È partita un'immediata attività di indagine, insieme e soprattutto di concerto con l'autorità giudiziaria, anche perché le versioni date dalla vittima del pestaggio e dall'altro soggetto non ci convincevano. Quindi le attività tecniche avviate immediatamente, quindi intercettazioni telefoniche, ambientali ed altro, ci hanno poi consentito di arrivare a capire il vero scenario, il vero motivo di questo gesto che era stato tutto preordinato dal titolare del negozio. Tre arresti tra cui un pluripregiudicato. Sì, gli arrestati sono il titolare del negozio stesso che poi ha simulato questo reato di rapina proprio perché in difficoltà economica ha coinvolto nella vicenda il suo commesso e un altro individuo amico del dipendente che si è prestato a porre in essere questo grave episodio e che è un soggetto conosciuto agli uffici con diversi precedenti. In tutto questo c'è da aggiungere il pestaggio che c'è stato della persona che è ancora ricoverata in ospedale. La vittima ha subito una violenta aggressione da tutti e due i rapinatori che gli hanno provocato diversi traumi, tant'è che è stato ricoverato alcune settimane con prognosi di fratture ed altro e nonostante poi sia stato dimesso in un momento dell'adegenza è dovuto ritornare in ospedale perché ci sono state delle complicazioni. Quindi è una situazione abbastanza seria. Sono stati arrestati? In base a una informativa fatta dall'ufficio è stata richiesta dal PM titolare di indagini una misura cautelare che è stata concessa dal GIP e sono state notificate queste misure questa mattina presto all'alba. E sono 11 i provvedimenti di fermo emessi dalla DDA di Reggio Calabria. Parliamo dell'operazione di ieri mattina proprio a Reggio Calabria. Oggi la conferenza stampa e dettagli. Sono 11 i provvedimenti di fermo emessi dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di elementi di vertice, affiliati e prestanome del gruppo criminale di Rosarno. Sono tutti accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, illecita concorrenza con minaccio, violenza, intestazioni fittizie di beni e favoreggiamento personale nei confronti del boss, latitante Marcello Pesce. Arrestato dalla polizia il primo dicembre del 2016, nonché di traffico e cessione e di sostanze stupefacenti. Nell'elenco c'è anche una dodicesima persona, si tratta di Antonino Pesce del 92, nato a Cinque Frondi e residente a Rosarno. Attivamente ricercato ancora dalla polizia di Stato. La COSCA non ha bisogno di rafforzarsi perché è ancora presente sul territorio nonostante i numerosi arresti continuano ad avere una propria organizzazione, una struttura ancora operativa. Tanti sono gli elementi che ancora in libertà si muovono per la COSCA. Di volta in volta si riesce ad acquisire un quadro indiziario grave nei confronti di una parte di essi, per lo più coloro che operano per la COSCA e si procede all'arresto. Oggi per esempio mi è sembrato particolarmente sorprendente che in occasione della traduzione degli arrestati fosse presente una folla così numerosa. E mi sembrava di essere tornata agli anni 70, anni 80, in cui gli appartenenti alla COSCA andavano a salutare i vertici che venivano tratti in arresto. E per la verità è un segnale certamente non positivo. Continuiamo a parlare di cronaca e lo facciamo guardando al consueto giro regionale. I carabinieri della stazione di Siderno hanno denunciato un 43enne di platì già noto alle forze dell'ordine per il reato di lesioni personali. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo nella giornata di lunedì avrebbe avuto un diverbio con un anziano del posto a seguito di problemi legati alla circolazione stradale. Grazie alla collaborazione di alcuni testimoni si è riusciti ad individuare l'autovettura usata dall'aggressore e individuare il conducente autore dell'aggressione. L'uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica. I carabinieri della stazione di Bovalino hanno arrestato in flagranza di reato due uomini per violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. Uno dei due pare abbia tentato anche di minacciare gli agenti. Così, il quarantenne è stato bloccato e dichiarato in arresto, mentre il coltello della lunghezza complessiva di 18 cm utilizzato dall'uomo è stato sottoposto a sequestro. Aveva cercato di rapinare due centri scommesse facendo irruzione con una pistola e il volto coperto. Il primo lungo la statale 18, l'altro in pieno centro a Vibo Valencia. Per questo motivo sono state attivate le ricerche del veicolo che è stato rintracciato a Soriano Calabro. Essendo a tal punto evidenti i gravi indizi di colpevolezza della persona individuata ed essendo concreto il pericolo che lo stesso potesse darsi alla fuga, si è proceduto al fermo di polizia giudiziaria del giovane, che quindi, dopo tutti gli adempimenti di rito, è stato accompagnato in carcere. Tre medici dell'ospedale di Soverato sono stati rinviati a giudizio dal gruppo del Tribunale di Catanzaro con l'accusa di omicidio colposo per la morte di un neonato avvenuta nel settembre del 2014, dopo quattro giorni dalla sua nascita. Andranno dunque a processo il primario del reparto di ostetricia e ginecologia Domenico Perri e i medici in servizio nello stesso reparto. Il piccolo era nato nell'ospedale di Soverato, da dove era stato poi dimesso in buone condizioni di salute. Quattro giorni dopo i genitori preoccupati per il pianto continuo avevano riportato il bambino nel nosocomio, da dove poi era stato trasferito con urgenza a Catanzaro. Poche ore dopo sopraggiunse il decesso. Secondo l'accusa, i camici bianchi non avrebbero fatto il possibile per evitare la morte del piccolo, omettendo di diagnosticare una malformazione al cuore che, se accertata, avrebbe potuto garantire al neonato cure appropriate in un centro specializzato. I gnari cittadini erano praticamente coinvolti in una truffa da parte di quattro persone che si spacciavano per finanzieri vendendo delle false riviste. Sentiamo. Le fiamme gialle palmesi coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi hanno portato a termine un'accurata e complessa attività di polizia giudiziaria finalizzata all'individuazione di un raggiro telefonico afferente la vendita di un abbonamento annuale a una finta rivista edita alla Guardia di Finanza. I soggetti giornalmente contattavano ignari cittadini, prevalentemente gestori di pubblici esercizi o comunque titolari di partita IVA ubicati in varie province del territorio italiano. E spacciandosi come appartenenti alla Guardia di Finanza invitavano i propri interlocutori alla sottoscrizione di un abbonamento annuale a una fantomatica rivista il cui pagamento doveva avvenire in contrassegno precisando al fine di invogliare i malcapitati utenti che gli introiti sarebbero stati successivamente devoluti in beneficenza per aiutare le famiglie bisognose o colpite da catastrofi naturali. In tal unicasi inoltre al fine di persuadere i propri interlocutori lasciavano intendere minacce di controlli tributari o comunque di conseguenze negative in caso di mancata adesione alla proposta contrattuale. Gli accertamenti effettuati dal personale della Compagnia di Palmi hanno però permesso di individuare tutti i soggetti coinvolti e di riscuotere il modus operandi posto in essere nonché i diversi ruoli e compiti ricoperti da ciascuno. Nel particolare il soldalizio criminoso era promosso e diretto organizzato da un soggetto residente nella piana di Gioia Tauro il quale con la partecipazione di un fidato collaboratore proponeva telefonicamente le adesioni alla rivista. Altri due soggetti avevano il compito l'uno di provvedere a ritiro e alla consegna della corrispondenza e l'altro, titolare di una tipografia, di stampare le false riviste alla luce di quanto descritto. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi, il dottore Migniti, ha emesso un'ordinanza di custodia personale e cauterale nei confronti di quattro soggetti coinvolti, in particolare una misura degli arresti domiciliari, una misura dell'obbligo di dimora e due misure dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, nonché il sequestro preventivo di una società, di un immobile utilizzato come sede del call center. Troppo monello per la maestra che vuole allontanare il bimbo dalla scuola, un bambino di 7 anni, ma i genitori non ci stanno e denunciano il fatto. Tutto ciò è avvenuto a Cosenza all'interno di una scuola elementare. Ma sentiamo i dettagli nel nostro servizio. Se una comunità educante non riesce a tenere fede alla sua missione costituzionale, sicuramente bisogna verificare al suo interno i fattori che impediscono la stessa di svolgere il compito primario di integrazione. Il caso esploso nella provincia di Cosenza descrive la storia di un bimbo di 7 anni che viene ritenuto troppo monello e dunque non desiderato in quella realtà scolastica, ma non solo. Anche i genitori dei compagni del monello non gradiscono la presenza del brimbo tra i propri figli. È stupefacente che in una dimensione scolastica, tesa la formazione e dalla educazione, anche le maestre si siano messe a fare pressing per spostare il monello ad altra classe o ad altra scuola. Ai poveri genitori non resta che la denuncia, ma la vera denuncia va fatta verso un sistema che dopo i grandi annunci di inclusione e di centralità della comunità educante professa al contrario l'esclusione e l'emarginazione. Al ministro Fedeli rimandiamo questa piccola ma delicata questione che mette in crisi uno dei principi più saldi della nostra Costituzione circa le pari opportunità di essere formato ed educato. E se a fallire su questa mission e proprio la scuola c'è davvero da preoccuparsi. E adesso cambiamo argomento e parliamo di sanità. Il decreto non ha subito nessuna sospensione, deve essere ancora adottato e c'è solo la firma di Scur e pare che mancherebbe quella di Urbani. A sostenerlo ai nostri microfoni è stato proprio Riccardo Fatarella, dirigente generale tutela della Salute Calabria. Dottor Fatarella, questo decreto 50 che prevedeva tante assunzioni proprio nella sanità calabrese ha avuto un blocco. Ci spiega lei di cosa si tratta, visto che comunque sono tante i pareri che stanno uscendo sugli organi di stampa? Allora, i pareri sugli organi di stampa sono legittimi e quindi è giusto che ci siano. Il decreto non ha subito nessuna sospensione, deve essere ancora stato adottato. C'è un decreto firmato dal commissario Scur e non firmato dal suo commissario Urbani. Il Dipartimento ha una direttiva scritta del Ministero della Salute che tutti i decreti che hanno una sola firma sono irricevibili. Questa direttiva è stata confermata, lo ha il resoconto stenografico, anche nell'ultimo rincontro al tavolo di monitoraggio con i ministeri che ci controllano, il 28 marzo, quindi poche ore fa. E anche in quell'occasione la dottoressa Duce che conduceva il tavolo ha ricordato al commissario e al Dipartimento che i decreti devono avere tutte le firme per essere validi e quindi pubblicati. Finché non sarà questo decreto firmato vuol dire che stanno ancora discutendo tra commissario e subcommissario. Il Dipartimento lo ha firmato, mi auguro che quanto prima si possano chiarire le cose e che si possa dare serenità a un ambiente sanitario che ha bisogno anche di poter lavorare serenamente. Abbiamo bisogno di queste assunzioni, il Dipartimento ha firmato il decreto e lo condivide. Il fatto che il subcommissario non lo abbia firmato e che non sia d'accordo col commissario è un problema che riguarda loro e non me. Come mai allora si tende anche a mandare in confusione i tanti cittadini che anche da queste polemiche potrebbero essere parte resa? Come vedete io non ho fino ad oggi fatto nessuna dichiarazione perché secondo me l'amministrazione, come diceva un grande giurista, Massimo Severo Giannini, deve procedere per atti iscritti e non per dichiarazioni alla stampa. Allora io aspetto che la Regione e che i ministeri affiancanti facciano uscire la loro posizione che dovrebbe essere questione di pochi giorni in modo da rasserenare l'ambiente e evitare che chi oggi ha fatto tanta confusione creando questo sì danno ai cittadini e al servizio sanitario regionale se non altro chieda scusa e continuiamo a lavorare insieme. Con Fabio Tomaino che ha rappresentato la UIL regionale all'incontro con Sacala nei giorni scorsi abbiamo parlato del bando dei due aeroporti che riguardano Crotone e Reggio Calabria e anche del futuro dei dipendenti. Con Fabio Tomaino vogliamo parlare dell'incontro che si è tenuto alla mezza con la Sacala. Come sindacato la UIL ha sempre difeso il personale dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone. Nel momento in cui nasce questa gestione a livello regionale dei tre aeroporti la UIL in qualche modo si allinea alle scelte della Sacala o continua a dire che il personale dell'aeroporto di Crotone ma come quello di Reggio devono essere riassunti. Beh è successo più o meno il contrario nel senso che Sacal grazie a Dio si è allineata alle richieste che il sindacato ha fatto nei giorni scorsi ovvero quelle di fare un bandosi pubblico ma che mettesse al centro una serie di criteri che consentissero agli ex lavoratori Sant'Anna che poi ex non dovrebbero essere perché sappiamo bene che ancora oggi dovrebbe vigere l'esercizio previsorio consentire a questi lavoratori di avere una strada privilegiata non di discriminazione rispetto ad altri ma rispetto all'esperienza. Tant'è che nella riunione di ieri il direttore di confine d'industria regionale, la responsabile personale di Sacal hanno a differenza della riunione del 20 marzo prospettato una logica di criteri completamente diversa che va incontro alle richieste del sindacato ovvero nell'ambito degli avvisi pubblici che sono già sul sito quindi ciò che diciamo è noto verranno considerati come requisiti fondamentali l'esperienza nello scalo aeroportuale e la formazione ovvero la professionalità acquisita questo consentirà alle figure che ovviamente dimostreranno con i loro titoli, la loro anzianità determinati requisiti di avere ovviamente un percorso privilegiato Parliamo del dossier 2016 migranti e lo facciamo con il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone Andronaco Comandante, oggi si parla del dossier migranti 2016 dati interessanti e dati che ci mettono anche di fronte a quello che è l'attività dobbiamo dire della Capitaneria di Porto Oggi è un consultivo praticamente ovviamente si fa un riesame di tutta quella che è stata l'attività annuale degli organi interessati al fenomeno dell'immigrazione irregolare in particolar modo diciamo la Questura che poi segue tutto l'iter praticamente dell'inserimento diciamo dei vari soggetti nel territorio italiano La nostra attività ovviamente come più volte diciamo sostenuto e ribadita è quella di salvare le persone a prescindere da qualsiasi legge, da qualsiasi norma da qualsiasi intenzione politica o non che sia quindi e lo faremo sempre e lo faremo comunque l'abbiamo fatto per professione lo facciamo in questo momento particolare perché i numeri sono più elevati oltre ad affrontarlo con i normali mezzi nell'ambito delle acque territoriali andiamo anche con le navi diciamo alturiere in alto mare e lì regolarmente e quasi giornalmente ci troviamo di fronte a situazioni che necessitano un intervento non solo di soccorso ma anche di sostegno e di accoglienza come più volte ribadito nelle varie sedi Della valorizzazione del territorio e dei beni culturali ne abbiamo parlato con Laura Ferrara che è stata presente nel nostro territorio nei giorni scorsi Come si valorizzano i beni culturali secondo lei? Innanzitutto si devono tutelare si devono tutelare, si devono proteggere e poi si valorizzano con iniziative progettuali che sono volte a far conoscere tante volte proprio i cittadini calabresi stessi ma poi in generale a far conoscere a tutti i cittadini italiani e non quelle che sono le bellezze al contempo si tutela e si valorizza un patrimonio e dall'altro lato si crea anche un beneficio economico perché c'è tutto un indotto che ruota attorno alla valorizzazione di questo patrimonio e quindi dei benefici in termini economici Poi ricordiamo pure che in Europa ci sono veramente tantissimi soldi per la valorizzazione e per la promozione della cultura Sì, assolutamente sì sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio culturale l'Unione Europea mette a disposizione diversi fondi che poi vengono incanalati in quella che è la programmazione operativa regionale quindi sulla base del POR poi a livello comunale si possono pubblicare dei bandi per, ripeto, tutelare delle realtà specifiche Questo sta alle amministrazioni regionali da un lato e locali dall'altro per sfruttare le risorse che l'Unione Europea mette a disposizione Finalmente abbiamo acceso e riflettere anche su questa questione dei beni culturali sulla nostra cultura e sulla nostra storia che in realtà è il punto di partenza anche quello che è stato il nostro programma elettorale dove noi crediamo che la nostra cultura e i nostri beni culturali siano il vero volano la vera ricchezza unica che ha il Comune di Crotone dove veramente si possa investire è una ricchezza che non si consuma è una ricchezza che consumandola tra virgolette si può solo far crescere ai cittadini e comunque non finirà mai anzi aumenterà col tempo Nella mattinata di ieri presso la Basilica Cattedrale di Crotone le Forze dell'Ordine hanno partecipato alla Santa Messa e al Precetto Pasquale Vediamo Precetto Pasquale per le Forze dell'Ordine È un appuntamento che per noi è importante perché è un momento di riflessione per capire diciamo così attraverso la Santa Pasqua quello che è il nostro la nostra missione l'abbiamo visto oggi anche nell'Omelia lo vediamo qui con le macchine dei servitori dello Stato noi ci siamo sempre e ci saremo anche per questa Santa Pasqua per renderla sicura perché mentre la gente va nelle località di divertimento ci sono questi uomini della Polizia dei Carabinieri della Guardia di Finanza della Capitaneria di Porto e delle altre forze armate che vegliano per garantire la sicurezza È un momento anche di condivisione tra tutte le forze dell'Ordine? Certo è un momento di condivisione di quelli che sono i valori e gli obiettivi ripeto di una missione che è quella di dedicare se stessi al bene comune Francesco Tarantino ai nostri microfoni ci racconta la voglia di scrivere questo libro e il perché il titolo di Getsemani o dell'inquietudine sentiamolo insieme Come nasce questa voglia di scrivere questo libro sul Getsemani? Perché a un certo punto della vita inderogandosi si arriva al momento che anche questo rapporto con il divino va affrontato va discusso va interiorizzato va anche decantato per cercare di arrivare ad una conclusione alla quale non sono ancora arrivato però senz'altro il cimentarmi con questo ha permesso di aprire in modo sincero il mio cuore a me stesso cioè per cercare di capire attraverso le varie vicissitudini della mia vita dove sono prodato dove intendo prodare come pensare di andare avanti molti mi tirano dice dopo questo che scriverai perché è un momento di confronto serio, reale sincero con la vita Tante Mafia nella sua introduzione al libro l'ha definita una via crucis attraverso 75 stazioni in cui c'è questa mia agitazione questa mia inquietudine che cerco appunto di rapportarla un po' a Cristo all'inquietudine di Cristo è un viaggio interiore sì senza altro un viaggio interiore attraverso tutte le cose che ho attraversato siano essi dolori gioie poche per la verità sicuramente il raffronto anche con i rapporti che ho avuto con le più diverse persone a cominciare dalla mia compagna passando poi gli amici fondamentali nonché figure tipo che ne sono mio padre mia madre eccetera con questo è tutto vi lasciamo in compagnia dell'ampia pagina sportiva ci ritroviamo alle 17 per altri aggiornamenti non ci rimane che augurarvi buon pomeriggio